Sì, veramente questa vittoria vale triplo perché era veramente difficile rimanere lucidi in questo campo, c'era molta pressione da parte dei tifosi, anche nei confronti degli arbitri che non erano lucidi neanche loro perché non è facile giocare in questo ambiente. Abbiamo messo veramente tutto, ci abbiamo creduto fino alla fine, questo è il grande merito perché era una cosa difficilissima, siamo stati veramente bravi. Lo scudetto della programmazione di Conversano, dopo il titolo dell'anno scorso sono arrivati i giocatori importanti come Moretti, come Saitta che alla fine oggi vi hanno svoltato la partita. Sicuramente, noi contiamo su tutto il gruppo squadra, è già dall'inizio dell'anno che vogliamo inserire i nuovi arrivi, non è mai facile ricominciare l'anno e avere sempre molti giocatori da inserire e ci vuole un po' di tempo, il girone di ritorno infatti l'abbiamo fatto strepitoso, abbiamo concluso credo degnamente questo campionato. Qual è il segreto di Conversano? Ma il segreto sono tanti i segreti, penso che innanzitutto la società che è la programmazione che fa, la passione che ci mette nel fare le cose lo trasferisce sicuramente a me per primo ma di conseguenza anche a tutti i ragazzi che lottano veramente tanto per questa maglia anche se l'anno prossimo probabilmente più di uno se ne andrà da questa squadra però hanno messo veramente tutto in campo.